Il nostro è un progetto che comunque è di supporto, anzi di comfort all'interno dei reparti del nostro ospedale, del presidio ospedaliero di Barletta. L'abbiamo chiamata belle come prima e sono degli incontri di make up e di camuflaggio. Ma perché questo? Intanto innanzitutto devo fare una premessa. Che i trattamenti chirurgici e oncologici della malattia, mi devo aiutare anche a leggere perché altrimenti, ripeto, vado anche a dire molto altro, costringono la donna a vivere un profondo cambiamento della vita. Ancora oggi hanno un impatto negativo sulla qualità della vita e non di meno a livello psicologico ed emotivo. Dopo una diagnosi di tumore, sentimenti come tristezza, rabbia, sconforto, ansia, paura o in alcuni casi senso di panico possono comparire e sfuggire al proprio controllo. Ci si può sentire sopraffatte dagli eventi, frastornate, stordite, confuse, a volte demoralizzate e capita spesso di avere voglia di piangere. Indipendentemente dalla gravità specifica, il fatto sesso di essersi ammalati e quindi forzatamente confrontati con l'idea della fine biologica, comporta una rottura drammatica della continuità del vivere. Quindi la donna è costretta, anzi, a pensare qualcosa di più nero possibile. L'incontro con questa malattia genera una sensazione di invasione, un sentimento di sconfitta vitale. In questo momento la donna ha bisogno di essere incoraggiata all'elaborazione psicologica di questa esperienza traumatica, e cioè saper convivere con la malattia e i suoi trattamenti. L'optimum sarebbe affiancare e sostenere la paziente durante questi processi di cambiamento fisico ed emotivo, per poter passare dalla rassegnazione impotente alla cosciente presa in carico della propria vita, indipendentemente dallo stato clinico. Questo tipo di approccio, senz'altro, permette di innescare una reazione positiva. E ora passo chiaramente al nostro progetto. Da questi presupposti nasce il nostro progetto Belle come prima, la cui finalità è quella di offrire alle donne pazienti, quindi all'interno del presidio ospedaliero, nelle varie unità operative, sottoposte ai trattamenti oncologici, un servizio di supporto dermocosmetologico preventivo e correttivo, volto a contrastare e, dove è possibile, prevenire, ridurre, risolvere i danni che la paziente subisce dalla terapia antitumorale, portando a migliorare e recuperare la sua qualità della vita. Il progetto ha due obiettivi. Il primo è proprio quello di far sentire una donna sempre bella, ma in che modo? Far ritrovare le donne in terapia antitumorale il sorriso davanti allo specchio. Quindi chiediamo di realizzare, in uno spazio che la ASL, che la Direzione Generale ci mette a disposizione, un angolo di trucco, che noi abbiamo già sensibilizzato un'azienda che produce arredamenti, quindi ci darebbe un angolo, ci creerebbe un angolo, con specchio, lampade e quindi posto, come se fosse un estetista vero e proprio, però un angolo. E quindi la forza dentro di sé, dando importanza alle piccole attenzioni quotidiane, piccoli trucchi e un generale atteggiamento di cura verso il proprio corpo e la propria bellezza, e che può senz'altro essere di grandissimo supporto, non solo fisico, ma anche all'umore e alla guarigione, sia nel periodo immediatamente successivo all'intervento, sia durante la chemioterapia. Guardate, lo sappiamo tutti, che il rossetto, un po' di cipria, mascara, possono rendere attraenti, modificare il volto e anche l'umore. Le donne si sentiranno più sicure di sé, più attraenti, in una parola più belle. Quindi noi stiamo parlando solamente di tenerle per alcuni momenti, per alcune ore, durante la settimana, durante la loro permanenza nel presidio ospedaliero, quindi in reparto, farle alzare dal proprio letto, farle uscire dalla stanza dove sono, tra virgolette, costrette a rimanere per alcuni giorni durante le terapie, e quindi farle sentire donne nuovamente, quindi avere un'attenzione a se stesse. E a sentirsi belle non devono rinunciare proprio mai, neanche durante la chemioterapia, e di questo di cui parlavamo. Che la chemio possa dare effetti collaterali spiacevoli, anche dal punto di vista estetico, lo sappiamo tutti, ma con qualche astuzia femminile, e quindi loro ci danno ragione, e soprattutto con una forza e dose di determinazione e ottimismo, possiamo da un lato nascondere gli effetti, dall'altro invece evidenziare un nuovo tipo di bellezza più consapevole e forte. In pratica cosa vogliamo realizzare? Dei laboratori di bellezza, chiamiamoli così, con l'apporto di lavoro di consulenti volontari per ritrovare il sorriso delle partecipanti. Il tutto con la grande attenzione alle conseguenze psicologiche, emotive e fisiche della malattia. Il secondo obiettivo di cui parlavo è quello di dare un aiuto concreto, gli incontri con le altre donne, perché questo non devono farlo da sole. In questi laboratori di bellezza, l'incontro con altre donne, la condivisione delle proprie esperienze, i propri vissuti ed emozioni, può dare, e ribadisco in queste sedi, l'accettazione e il sostegno che derivano dallo stare insieme, favorendo il senso di solidarietà, contrastando la sensazione di solitudine e isolamento. Ecco perché questi laboratori di bellezza in gruppo. Il gruppo in effetti, oltre offre un contesto dove poter parlare, non solo della propria esperienza, delle proprie emozioni legate alla malattia, ma anche dell'impatto con i trattamenti di bellezza, che in questi momenti più che mai sono essenziali. Quindi ogni partecipante, ogni donna partecipante, diventa testimonia al positivo dell'aiuto che deve dare all'altra persona. Rappresenta un momento importante per rivisitare i propri comportamenti e se necessario per apprendere strategie e atteggiamenti nuovi, utilizzati con successo dagli altri per fronteggiare lo stress, per recuperare la sensazione di fare qualcosa di attivo e positivo nei confronti della propria persona, del proprio aspetto. Ecco, ora io vi dovrei parlare dei risultati attesi in questo. Da questa esperienza vorremmo imparare quanto le donne, che inizialmente dichiarano di volersi solo rinchiudere in casa, siano poi felici di aver partecipato a questi incontri di bellezza. Il nostro desiderio è che ci confermassero che vedersi più belle ha ridato loro fiducia e grinta. In una parola, vorremmo che le donne sorridessero. Vero che questo è il desiderio di tutti quanti noi, vedere le nostre mogli, vedere le nostre figlie, vedere i nostri genitori, le nostre mamme sorridere, anche durante una terapia antitumorale. È un progetto non medico e non interferisce con le cure mediche. Né intende in alcun modo sostituirsi ad esse. Il programma dedicato a donne e pazienti, realizzeremmo anche dei gruppi da 10-12 donne a volta, sottoposte ai trattamenti oncologici e ricoverate nei rispettivi reparti, è completamente gratuito. Direttore, direttore, è gratuito. Totalmente. Proprio perché gli esperti estetiste e psico-oncologi offrono la loro consulenza a titolo di volontariato. Vero volontariato. Avrà durato di un anno, con cadenza quindicinale, e ogni lezione durerà due ore circa. Volendo lo possiamo anche portare a una settimana, ma questo è un fattore solo tecnico, lo decideremo con i direttori anche delle unità operative, perché daremo questo servizio alle pazienti che sono presenti nel loro reparto. Offriremo informazioni, idee e consigli pratici per meglio fronteggiare gli effetti secondari dei trattamenti, aver cura della pelle, affrontare la caduta dei capelli, truccarsi per riconquistare benessere e autostima. Attiveremo nella promozione del programma il coinvolgimento anche di altri soggetti pubblici e privati. Utilizzeremo anche, e questo è il lavoro che faccio, più che fare il presidente della Liglia Italiana è una lotta contro i tumori di questa sezione, strumenti comunicativi come il nostro sito e quello nazionale, emittenti radio televisive locali, quotidiani, web tv, social network, ci state dando ragione sulla comunicazione che state utilizzando, testate giornalistiche, oltre a materiale cartaceo, saranno da noi utilizzati al fine di sensibilizzare tutta la popolazione alla prevenzione oncologica, perché questo è solo un tassello di quello che la Liglia Italiana lotta con i tumori realizza. Quindi è solo un piccolo aiuto che stiamo dando a quello che è, dicevamo poc'anzi, il nostro polo onco-ematologico. Ma perché? Perché prevenire è vivere, e quindi è questo dove vogliamo puntare noi. Noi abbiamo già sensibilizzato, ecco perché a costo zero, un'azienda che fornisce prodotti dermatologici, è presente solo in farmacia, è la verità, che deve essere presente per tutto il periodo che vorremmo portare avanti questo progetto. Quindi la fornitura anche di prodotti dermocosmetologici 5 dedicati, sia durante tutti gli interventi, i laboratori di bellezza, e sia anche a quella di essere sempre al fianco di queste donne pazienti. Abbiamo anche sensibilizzato un istituto, e quindi sto parlando del fattore pratico, degli istituti di formazione per estetiste del territorio, che metteranno a disposizione le loro estetiste, a costo zero. Quindi avremo sempre la presenza, non stiamo utilizzando, chiamando in causa una volontaria, un estetista che potrebbe mancare poi in alcuni momenti, quindi saremo sempre coperti. E al loro fianco ci sarà sempre una psiconcologa che fa parte della nostra sezione provinciale. Quindi questo è quello che andremo a realizzare. Grazie.